Iniziato il lavoro anche per il Formia Calcio, conosciamo Luogalentini che quest'anno è il direttore generale di questo Formia. Innanzitutto c'erano tante incognite su questo Formia quest'anno, nelle ultime ore le avete dissolte tutte quante. Il Formia c'è, si è presentato e anzi spera di tornare in eccellenza. Certo, il Formia è tornato e è tornato penso anche alla grande rispetto alle aspettative negative di tante persone che non credono neanche nell'iscrizione del campionato, invece adesso Formia sta costruendo una squadra importante con un presidente che ovviamente investe tanto per poter portare il Formia ad un certo livello. Quindi ci aspettiamo un grande Formia e soprattutto vedere poi un attimino il campionato, se sia quello di promozione di eccellenza, che aspettiamo solo domani per la matematica certezza. Diciamo che tutto il golfo cacistico sta spingendo questa Formia in eccellenza. Vuoi per il blasone di una città che comunque in passato ha fatto grandi campionati, ma al di là dei campanilismi in tanti vogliono il Formia in eccellenza. C'è una Rosa in grado nel caso di affrontare questo campionato? La Rosa la stiamo predisponendo in una maniera adeguata al campionato, adesso quello di promozione perché è quello poi diciamo reale che noi conosciamo. Quello di eccellenza speriamo che sia quello poi alla fine verrà ovviamente integrato con qualche altro calciatore, anche se devo essere sincero questa qui che stiamo costruendo è una squadra comunque importante che possa comunque sicuramente dire la sua nel campionato. Quindi ci aspettiamo sicuramente grande professionalità e grande grande qualità anche dal punto di vista diciamo di giocatori, un parco di giocatori comunque nelle scelte che stiamo facendo molto molto positivo. Il tifoso Formiano negli ultimi anni si è un po' diciamo allontanato, ci sono quelli che sono rimasti e sono innamoratissimi del Formia. Quelli che hanno un po' lasciato il campo di Maranola, come riconquistarli? Questa cosa qui ovviamente è la più dura, anche se secondo me il tifoso Formiano deve ricredersi un attimino, nel senso che deve avere fiducia in questa nuova società che sta cercando comunque di poter portare il Formia ad un livello ovviamente superiore a quello, non dico degli altri anni perché gli altri anni comunque non ci sono stati mali i risultati, però perlomeno a livello di prestazioni migliori rispetto all'anno scorso che ovviamente è venuto fuori poi un disastro finale ma da tanti aspetti che non so qui a dire, però ci aspettiamo sicuramente un Formia che possa far ricredere i propri tifosi e di portare il Formia ad un livello di categoria che merita. Un'occasione importante potrebbe essere a fine mese d'agosto quando sicuramente ci sarà una manifestazione dove il Formia si presenterà dal presidente Falco fino all'ultimo magazziniere per salutare la città e perché no presentarsi e invitare tutti qui a Maranola per il campionato. Se aspettiamo la grande tifoseria dal 2 settembre qui a Maranola e tutti insieme dobbiamo spingere il Formia che sia in promozione e eccellenza in un grande campionato e ovviamente un risultato di nuovo prestigioso come qualche anno fa che comunque dalla promozione all'eccellenza ha svegliato un po' la voglia del Formia Calcio. Ci aspettiamo questo da questi ragazzi che stiamo comunque diciamo acquistando pian piano e quindi di portare il Formia ai vertici delle classifiche ovviamente. Faccio una domanda scomoda. In tutti e due i casi, in campionato di promozione e in campionato di eccellenza, quali sarebbero gli obiettivi di questa società? Questa è una domanda molto scomoda perché detta in questo momento non è semplice. Ti dico solo che stiamo costruendo una squadra importante. Poi dove arriveremo ovviamente sarà sempre il campo a dare il giudizio finale. Però ti posso dire che sicuramente si sta costruendo qualcosa di importante. Mister Di Benedetto, prima di tutto benvenuto a Formia in una società blasonata dal punto di vista del Sud Pontino ma una squadra è una società che vuole tornare nel calcio che merita. Buonasera, prima di tutto. Sì, penso che il Formia si stia riorganizzando e stiamo facendo dei grandi sacrifici per cercare di riportare il blasone allo stadio. Naturalmente penso che sia difficile però ci mettiamo tutta la nostra volontà. Purtroppo è tema di questi giorni il vostro ripescaggio tra l'eccellenza e la promozione. Cosa cambierebbe per il Mister da un campionato all'altro e se questa squadra può essere anche una bella sorpresa in eccellenza nel caso? È difficile rispondere a questa domanda. Prima aspettiamo un attimino dove ci colloca la federazione regionale poi cercheremo di fare delle valutazioni e penso che a breve ti posso dare una risposta. Il suo credo tattico, come giocherà questo Formia? Al di là del mio credo tattico io penso che mi devo sempre confrontare con i ragazzi e vedere le loro capacità. Io nella mia vita sportiva ho sempre sposato il 4-3-3 però se vedo naturalmente che ci sono delle caratteristiche che possono optare per un'altra definizione tattica siamo completamente a disposizione dei ragazzi e i ragazzi che devono essere protagonisti di questo campionato e non io con le mie idee. Un ambiente tutto nuovo, quello formiano dalla dirigenza al staff tecnico ma io credo che l'obiettivo sia unico quello di comunque fare un anno dove le sorprese siano tutte in positivo da quello che si assapora conoscendo questo ambiente. e gliel'ho già detto prima, è difficile però ce la metteremo ce la metteremo tutta per cercare di dare una risposta positiva a questo percorso di crescita del Formia Calcio. Siamo predisposti a fare sacrifici la società si sta muovendo sotto questo punto di vista e non mi voglio sbilanciare perché penso che non sia corretto sbilanciarsi però cercheremo di costruire un percorso che possa portare lontano sia dal punto di vista professionale e personale ma soprattutto per questa società che merita tantissimo. Ultima domanda se sono già state programmate delle amichevoli per questo Formia. Sì, abbiamo programmato delle amichevoli andremo l'11 a Giuliano il 12 a Fratta Maggiore e il 19 a Mondragone e poi il 22 se non erro a Sarno contro la Sornese in Serie D. Quindi già questo penso che possa far capire ai telespettatori e ai nostri tifosi che la Formia si sta muovendo bene perché squadre di lignaggio come il Giuliano e la Frattesa appena hanno sentito il nome Formia si sono messi completamente a disposizione. Angelo De Meo dopo l'ottimo lavoro fatto nel settore giovanile è un impegno importante quest'anno è un allenatore in seconda e perché non fare dà raccordo da quello che è il lavoro della Juniors con la prima squadra? Sicuramente è un incarico molto impegnativo però mi fa piacere che la società mi ha chiamato perché sono quattro anni che sono qua a Formia almeno cerco di fare qualcosa anche dando una mano anche alla prima squadra. Due sezioni di lavoro ogni giorno per la prima squadra sintomo che ci si vuole preparare alla grande per quelle che poi saranno grandi amichevoli di quest'anno per iniziare il campionato. Sicuramente due sedute per i ragazzi è abbastanza dura però se vogliamo partire bene bisogna lavorare perché nel pallone chi lavora se si lavora si hanno i frutti. Parliamo della Juniors di quest'anno dopo l'ultimo lavoro scorso anno nel campionato allievi questa Juniors è chiamata a entusiasmare ancora di più degli altri anni magari? Sicuramente è un gruppo che porto avanti dai giovanissimi abbiamo vinto un campionato giovanissimo dei giovanissimi poi abbiamo fatto le allievi abbiamo vinto il campionato giovanissimo adesso con quasi tutti gli stessi ragazzi che siamo cresciuti insieme speriamo di vincere no di vincere vabbè però di poter stare su con la Juniors. Giovanni Russo preparatore dei portieri di questo Formia quest'anno negli ultimi anni il Formia ha avuto sempre grandi portieri sta a voi preparare i portieri di quest'anno come saranno questi due ragazzi? Innanzitutto buonasera mi presento a tutti Giovanni Russo innanzitutto sono onorato di questa magnifica atmosfera che si respira qui a Formia società blasonata di una storia incredibile nel trascorso calcistico siamo qui innanzitutto grazie alla società che ha puntato su uno staff estremamente che viene da fuori regione la rosa messa a disposizione in questo momento una rosa di tanti nomi di spessore ma soprattutto di valori a prescindere dal calciatore il primo valore che si sta cercando è quello umano per quanto riguarda i portieri in questo momento sto gestendo un parco portieri pronto disponibilissimi e soprattutto con tanta voglia di far bene e di mettersi in mostra in quel di Formia grazie a tutti